Riprendiamo le prove come secondo concorrente, ma prima di passare a presentarvi il suo programma permettetemi di portare da parte dell'Associazione Gipitzer un doveroso ringraziamento agli enti che con loro attenzione e sensibilità permettono annualmente l'analizzazione di questa importante manifestazione che si svolge con l'adesione del Presidente della Repubblica e l'alto patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, il patrocino dell'UNESCO di Parigi, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Istruzione e con il determinante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Camera di Commercio di Gorizia e della Cassa Lodale e Artigiano di Lucinico, Farla e Caprima e la sponsorizzazione di varie associazioni come il Lions Maria Teresa Alta, il Soroptimist, il Piano Center di Esoletta Pecca ed altri enti privati che potete trovare scorrendo le pagine della brochure. Passo ora ad annunciare il programma che eseguirà il secondo concorrente della serata che è Okada Suici, Francia di anni 17. Inizierà l'esibizione con il primo movimento e cadenza di Ostra dal concerto in re minore per violino e orchestra di Cacciatugno ed eseguirà il concerto in mi minore opera 64 per violino e orchestra di Mendelssohn. Nei seguenti movimenti, Allegro molto appassionato, Andante tranquillo, Allegro molto. Vi ricordo che anche dopo questo concorrente ci saranno dieci minuti di intervallo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.